E' molto semplice, io cerco sempre di portare avanti il discorso della consulenza. Comunque è fondamentale, io almeno così opero, ho cercato sempre di operare ormai da qualche anno a questa parte, quello di porre davanti la consulenza, spiegando bene cosa significa essere scevolo da conflitti di interesse, il mondo degli investimenti indipendenti, questo cosa significa che se io ritengo che in questo momento il cliente deve stare in liquidità, io non posso fare una differenziazione, non posso mettere in liquidità perché non guadagno, quindi secondo me la parcella è un fattore fondamentale a tutela del cliente, perché? Perché toglie dalla possibilità non solo del conflitto di interessi fra prodotto, ma dal conflitto di interessi del guadagno, perché poi ogni professionista ha un conflitto di interessi di guadagno, dire tu mi paghi indipendentemente che il tuo asset sta 100% di liquidità o 50% di liquidità, 50% azionario, 50% azionario, 50% azionario, questo significa che io sono libero di poter muovere chiaramente questo portafoglio come ritengo più opportuno, secondo gli obiettivi, secondo le esigenze del cliente, ma anche secondo chiaramente le variabili del mercato. Mantenere le aspettative che si raccontano in fase di flirt con il cliente all'inizio, credo che la cura del post vendita sia nel tempo l'arma strategica più importante, perché ci smette una vita, magari acquisire una relazione importante con un cliente che diventa il mio cliente. Due secondi ci si impiegano a perdere fiducia, credibilità e quindi la persistenza della relazione e dell'assistenza nel tempo, che questo sia il vero motivo per cui poi negli anni uno rimane nella professione. L'umanità, e ne vado molto fiero, l'umanità intesa come riuscire a rendere questo mestiere di per sé arido, perché parliamo di performance grafici o numeri, un piacevole viaggio fra i sogni e gli obiettivi di vita di ciascuno di noi. Di monitorare spesso il cliente, quindi di essergli vicino e assisterlo periodicamente, perché più del risultato il cliente lì vede la differenza e vede effettivamente che tu stai lavorando per lui. Al di là dei prodotti è sicuramente una professione che richiede sempre di più una sensibilità nei confronti del cliente, cercando di fare i miei, quelli che sono le aspettative, gli obiettivi del cliente e eventualmente anche le problematiche, cercando di guardare dall'ottica del consulente, perché molto spesso l'errore può essere quello di innamorarsi del prodotto o di altre cose che possono fuorviare quella che è la nostra professione.